Coppie! Tra poco si parte e il viaggio che state per affrontare sarà tutto tranne che una passeggiata. In questa competizione dovrete essere più scaltri e più veloce degli altri. Ma attenzione siete una coppia! Se resta indietro uno, resta indietro anche l'altro. È il momento di testare la vostra affinità di coppia. Partiamo! Potete mettere in valigia solo un'ultima cosa per entrambi. Beauty case o giacca a vento? Beauty case. Guai se mi metti il beauty case che poi fa un freddo boi. Giacca a vento, io assicuro anch'io. Beauty case, giacca a vento. Non ti lavi? No. Avete trovato un passaggio. Il conducente però non sembra essere molto affidabile. Accettate o rifiutate? Accettiamo. Faccio box. Vuoi vincere o no? Accettiamo. Ho visto di peggio. Poi lo convinciamo quando siamo su. Accettiamo! Subito! Dai, accetto, perché se ne frega. Manco noi siamo molto affidabili. Subito, assolutamente. Pro o contro il social network? Assolutamente pro. Contro. Contro. Perché? No, perché non voglio più, veramente. Però dalle 6 di mattina potete vedere le sue storie. Siete in vacanza. Preferite svegliarvi presto e non perdere tempo o dormire fino a tardi? Io svegliarmi presto, ma lo lo so già, e lui svegliarsi più tardi possibile. Io svegliarmi presto. Dormire fino a tardi. Non ho dubbi. Dormire fino a tardi. Svegliarmi presto. È una buona affinità di coppia, devo dire la verità. Street food con cibo locale strano e sconosciuto? O catena di fast food internazionale? Ma il fast food a me non piace molto, quindi direi cibo locale. Andiamo d'accordo, ragazzi. L'affinità di coppia mi sa che è già a mille. Io sarei per provare, ma ho il terrore ai parassiti e delle schifezze. Ma bella hamburger con le patatine, dai. Ma chi ce lo leva? Ma chi ce lo leva? Che ignoranza. State organizzando la vostra vacanza. Chi dei due organizza l'itinerario? Paride. Io. Io, assolutamente. Sareste disposta a giocare slealmente per poter vincere una competizione? Io non lo so, non credo. Solo se lei dice fallo, 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 perché io no. La risposta vera è sì, basta che la telecamera non ci veda. No. No. Certo. Pronti a tutto. Ma sì, è tutto il gusto, è là, è barare. Se non si barra, perché il gusto c'è. Treno o aereo? Aereo. Aereo. Si dorme meglio. Ah, in business. Per me è aereo tutta la vita. Per me è treno. È apposta. Campagna o grande città? Io campagna. Campagna, due balle. Uno, due, tre. Campagna. Campagna, due balle.